Cito spesso le parole di un pensatore estremamente lungimirante che purtroppo non c'è più, che diceva che la conversione ecologica avverrà quando apparirà socialmente desiderabile. Quella desiderabilità la devi costruire in politiche concrete. Un esempio, efficientare dal punto di vista energetico le case popolari. Serve perché permette di abbassare le bollette alle fasce più povere, ma anche di abbassare le emissioni prodotte da un patrimonio edilizio che è particolarmente vetusto e quindi particolarmente inquinante. Al contempo, se tu fai una politica per rendere gratuito il trasporto pubblico locale dei giovani, diciamo delle fasce economicamente più svantaggiate, realizzi queste due cose insieme, fai risparmiare 600 euro a una famiglia che ne ha bisogno e dall'altra parte però crei una cultura di una mobilità altra, sostenibile, meno inquinante che non è quella di prendere l'auto ogni volta che devi andare a scuola o devi andare a far la spesa. Quindi la società, per questo dico che va accompagnata a partire dalle fasce più fragili.